La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, attraverso la sua azienda speciale Promo Calabria Centro, ha organizzato la prima edizione di Pasta Fest dal 23 al 25 maggio a Crotone, per sostenere e promuovere le aziende e le produzioni locali. Un percorso enogastronomico volto alla riscoperta e alla valorizzazione attraverso l'esposizione e la degustazione in appositi stand dei vari formati di pasta che contraddistinguono la tradizione calabrese. Una tre giorni ricca di eventi in cui, oltre alla degustazione dei prodotti agroalimentari, della filiera, della pasta e dei suoi condimenti delle nostre imprese, si sono alternati momenti di musica, mostre e laboratori. Il Pasta Fest è stata una vetrina importante per le imprese calabresi che hanno avuto la possibilità di mostrare le proprie eccellenze e non solo a livello locale ma anche all'estero.